ah ciao bella ciao ci si si ciao ciao scusa lì adesso noi facciamo il rilievo e buttiamo giù quello che possiamo buttare giù che non ci piace questo è il concetto questo poi ci servirà per valutare l'intervento da fare capito la parte peggiore è già caduta ma ci sono altre cose che devono cadere cioè lo facciamo apposta e questo per la prima possibile mettiamola così questo è il concetto Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.